Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni Un cordiale saluto amici di TV6, bentornati all'appuntamento con le previsioni del tempo troviamo ancora l'alta pressione subtropicale ad avvolgere il Mediterraneo soprattutto i settori centro-occidentali e tutta la nostra penisola qualche disturbo però arriva da nord e dal centro Europa che danneggia il tempo però più nell'ore pomeridiane su monti e colline tuttavia nel corso di questo mercoledì quest'area un po' più instabile diverrà via via più marcata sul lato adriatico e causerà anche un discreto calo termico seppur momentaneo in Abruzzo una giornata comunque soleggiata qualche addensamento pomeridiano si monti non escludiamo qualche breve scoroscio di pioggia in appenino ma davvero poca roba le temperature come detto tenderanno pian piano a scendere soprattutto nei valori massimi notiamo di fatti in pieno giorno valori tra i 21 e i 24 gradi quindi almeno 4 localmente 5 gradi in meno rispetto agli ultimi giorni questo grazie appunto all'arrivo di ventilazione un pochino più fresca le quadranti settentrionali con questo è tutto grazie per essere stati con noi arrivederci al prossimo aggiornamento letizia costruzioni realizziamo i tuoi sogni grazie a tutti